Leonardo Spinazzola diventa un nuovo giocatore, un nuovo calciatore del Napoli dopo aver abbandonato la AS Roma, l'associazione sportiva Roma, club calcistico della capitale insieme a Nazio diventa dunque un nuovo giocatore, un nuovo nuova leva del Napoli, club bianco-celeste per eccellenza l'altra notizia di cui ho in questo video di oggi è che praticamente il Napoli chiude la posizione di Lorenzo e quindi proprio lo stesso di Lorenzo rimane in azzurro, che significa che rimane in azzurro? rimane al Napoli, saldato a questo club calcistico che quasi tutti i napoletani appressano e ammirano e non poco, dunque c'era stata una discussione nel passato con il club, le cose non sarebbero andate del tutto bene tra virgolette, secondo la mia opinione, chiaramente è una mia opinione, intendo a specificarlo ma nonostante tutto di Lorenzo resta saldato al Napoli e Spinazzola della Roma arriva direttamente proprio al Napoli però udite e udite a parametro zero ognuno di voi può pensare ciò che vuole iscrivetevi, mi raccomando, commentate e continuate dunque a Napoli per tenersi di Lorenzo e per prendere Spinazzola e a buona giornata poi